Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorazzo Antotto, allora chiedo scusa in anticipo per la qualità perché sto usando la webcam registrando con OBS in quanto se registrassi con la solita videocamera ci metterei di più a montare il video, la qualità è maggiore e deve anche uscire la recensione diabolic quindi devo poter lavorare il più rapidamente possibile a livello di pesantezza di file a questo video, quindi scusate solo per questa volta, giuro, poi già la recensione diabolic sarà con la videocamera normale Allora, è uscito da poco il nuovo trailer di Uncharted, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg e non l'ho ancora visto, quindi pensavo di fare la reaction e poi di parlarne quindi vediamo subito com'è, il primo trailer non mi aveva detto niente di che, vediamo com'è questo, per cui attivo lo schermo intero e vediamo, vediamo un po' Ok Ehi ragazzo, un po' giovane per fare il barman, no? Un po' vecchio, un po' giovane, come sai? I baffi no, eh? Niente baffi Di tutto quello che c'è qui, perché la mappa? È il più grande tesoro non ancora trovato 5 miliardi almeno Ma è soltanto una storia Io non credo E questo più o meno quello che avevamo in scampo in un trailer Eccolo qua, il caleone 500 anni fa La mia famiglia trovò il più grande tesoro del mondo Poi fu tradita È stato cercato da molti in vano Dovete girare le cavi in senso orario insieme Chloe è sempre identica Grazie, mi avete quasi ammazzato In senso orario, Sally Era 50 e 50, ho tirato a indovinare Chiaramente Mi sembra più sognare Sally di lui, però C'era qualcosa di molto più prezioso Questa croce c'è una storia tragica Molto salve Siamo sicuro che ha appena minacciato di ucciderli Sì Oh, qui la vedo brutta Non farti prendere Tu mi avresti lasciato lì Qualcuno doveva prendere la croce A me Sally sembra più Nathan Drake Sally Di Nathan Drake, è proprio qua Mi dicono che questa scena è ripresa dal terzo Sembra bella Tuo fratello pensava ci fosse un pezzo finale Conosci il mio fratello, Sam? Non sai chi è il tuo partner Cos'altro non mi stai dicendo? Al vincitore e il bottino Sì Come le porteranno via di qui? È che non lo so Mi sbaglierò Bellissimo Porto via la nave Potevano non farmela vedere nel trailer Allora Ehi Giù le armi ragazzi Ma Che diavolo hai sulla faccia? La pubertà è alle porte Oh 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 Grande Mi fanno contento così Bene Allora Il problema qua È che io non vedo Molto l'atmosfera di Uncharted È anche vero che io ho giocato solo i primi due Quindi non sono un grande conoscitore della saga Lo ammetto Perché Eh Li avevo iniziato a recuperare Devo recuperare Il terzo e il quarto Eh Però i primi due mi sono piaciuti molto Non mi sembra di vedere Più di tanto l'atmosfera A tratti sì Ma a tratti Nel senso che A me sembra Un po' depotenziato È vero che è un prequel Per l'amore del cielo Quindi questo Nathan Drake Non è ancora il Nathan Drake Che abbiamo visto negli Uncharted Però Non saprei onestamente Poi mi hanno detto Che questo film Sarà canonico Nei confronti dei Eh Videogiochi Ma se è così Allora perché hanno ripreso direttamente Una scena Che mi hanno detto Che è quella dell'aereo Eh Con le casse che volano fuori Dal terzo Se è una cosa Che comunque accadrà Nel suo futuro In Quando è successa nel gioco Non ha detto Ah Mi era già successo una volta Per dire Cioè perché riprendere le scene dei giochi Se Questo è canonico Nei confronti dei giochi Essendo un prequel Non ha molto senso No Comunque Il punto secondo me qua È che si chiama Uncharted Perché se questo film Si fosse chiamato Dei predatori Di velieri Venendo il trailer Sarei anche andato a guardarlo Eh Molto volentieri Sapendo che è il film di Uncharted Rimango Quanto meno Un minimo perplesso Rimango perplesso Perché mi viene da pensare Ma Eh Esattamente Cos'ha di Uncharted Cioè La dinamica Tra Sully E Nathan È che Nathan è un po' il coglionazzo Che fa sempre battute Sully non è che sia più serio di Nathan Ma ha un umorismo un po' diverso È un po' brontolone A me qua invece Sembra che il brontolone Sia Nathan E che Sully Sully sia invece quello Sassi Che fa le battutissime Poi per l'amor del cielo Bella l'idea Che si presenti alla fine Con i baffi Come se fosse proprio la origin story Può anche essere simpatico Certamente Non è la presenza o meno Dei baffi di Sully Che decreterà La buona riuscita Del film o meno Uno Quello che chiede Sono delle somiglianze Per esempio Chloe È perfetta È veramente identica A quella dei giochi Vedremo un po' La trama Mi sembra La classica trama Del film d'avventura C'è il tesoro da trovare C'è il cattivo Bisogna andare a trovare il tesoro E bla 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 Cioè Non mi sembra niente di trascendentale Tra l'altro io Mi chiedo Come caratterizzeranno Questi personaggi Nel film Perché Finché si parla di giochi Ci può stare Quando fai un film su Uncharted Ti scontri con un Piccolissimo problema Cioè che Uncharted Da sua volta È Giusto un pelo Riferito A un franchise Che mi risulta essere Piuttosto popolare Quello di Indiana Jones Quindi Come fai Nel film A far risultare Questo Insomma Questo Questa Questa storia Non un ripoff O comunque Una storia fortemente ispirata Da Indiana Jones È questo Secondo me È un po' Il problema che hai Con il film di Uncharted Perché quello che ho visto Comunque Per un film action In sé Sembra anche interessante Il problema è che Non mi sembra Particolarmente interessante Per un film su Uncharted Non so voi Scrivetelo nei commenti Che sotto Magari voi avete Respirato Assolutamente E totalmente L'atmosfera Di Uncharted Se è così Meglio per voi Poi ripeto Magari io L'ho respirata di meno Perché non sono Un grande Conoscitore dei giochi Non avendoli Giocati tutti Provvederò Prima del 17 febbraio Visto che c'è il 17 febbraio A Finirli E devo mettermi sotto Perché siamo già A fine dicembre Per cui Un mesetto e mezzo Per finire un paio di giochi Peraltro Lunghetti Non è poco Quindi Probabilmente A parte che Se è vero che è canonico Non serve Però comunque Per erudirmi di più Nell'atmosfera Magari Che ha giocato Tutti i giochi Ed è un grande fan Della serie Da anni Ha visto Un'atmosfera Uncharted Pazzesca A me Sembra di averla vista Solo in alcuni momenti Ripeto Mi sta bene Perché Non è ancora Il Nathaniel che conosciamo Quello non è ancora Il Sally che conosciamo Quindi sono alle prime armi Per cui È un'atmosfera Che andrà formandosi Pian piano Per l'amor del cielo Però Rimango Perplesso no Perché comunque Ripeto Come trailer in sé Lo promuoverei Se non si chiamasse Uncharted Sarebbe un film Che direi Wow Sembra carino Interessante Il problema è il brand Che si porta dietro Voi direte Sì il film è il film Il gioco è il gioco E non quando mi dici È canonico Non quando mi dici Vedrete l'atmosfera Di Uncharted Se fai delle promesse Poi le devi mantenere Questo trailer A me sembra Uncharted Fino a un certo punto Poi staremo a vedere L'importante è che sia Un buon film Cioè prima di tutto Deve essere un buon film Poi se non è un buon film Su Uncharted E Esce un po' dal seminato Ma rimane un buon film Me lo godrò lo stesso Me lo godo lo stesso Anche molto volentieri Forse mi aspettavo Qualcosa di differente Non lo so Io sono curioso Tutto sommato Perché mi piace Tom Holland come attore Perché comunque Mi piace anche Mark Wahlberg Sono curioso di vedere Come esso Sally Sono curioso di vedere Se Tom Holland Avrà azzeccato Il carattere di Nathan Per il momento A me non sembra Per il momento Quello a me non sembra Nathan Drake Ma ripeto Sono le origini Di Nathan Drake Ma non è il Nathan Spregiudicato E scavezza collo Che conosco Per quello Che ho potuto conoscerlo Non mi sembra Che abbia molto che fare Con il personaggio Che vedo qua Però Magari mi sbaglio io Poi ci sono delle cose Che sono anche simpatico La scena degli elicotteri Che portano via I velieri Il veliero che emerge Dalle acque Certe scene Con le varie battute Con Sally Può anche essere interessante Vedremo Quello che mi aspetto È un film Con un'azione Particolarmente Sentita Particolarmente visibile Una bella azione Speriamo È tutto quello Che richiederei Da questo film È l'unica cosa Che mi andrebbe di vedere Cioè Un film action Che sia godibile Se poi sarà Anche un film Uncharted Lo sapremo solo Andando in sala Staremo a vedere Però sono curioso Di sapere Cosa ne pensate voi Se secondo voi È un buon film Per quello che ho visto Ci sono varie citazioni Alcune probabilmente Me le sono perse Perché sono magari Gli altri giochi Però Vediamo Sta di fatto Che sembrano Averci messo Un certo impegno Devo dire Sembrano averci messo Un certo impegno Sembra un bel colossal Nel senso che Si vede che ci hanno speso Dei soldi Si vede che ci stanno Puntando tanto Anche a livello di branding Quindi Il 17 febbraio Non è così lontano Sono curioso Di vederlo Staremo a vedere Per cui Vi ringrazio per aver seguito Fin qui Vi invito a scrivere Per l'appunto Ancora una volta La vostra opinione Ditemi cosa viene perso Di questo film E noi Ci vediamo Al prossimo Movieblog Che peraltro Sarà tra non molto La recensione di Diabolic Ciao a tutti E buona giornata